I ragazzi e il diritto alla bellezza è il tema trattato oggi nell'aula magna dell'istituto scolastico Ettore Romagnoli di Gela nell'ambito dell'incontro promosso dal dirigente Sandra Scicolone. Gli studenti hanno presentato i lavori di ricerca realizzati per l'evento che rientra nelle iniziative ProUnicef. Noi siamo scuola dei bambini e quindi dobbiamo garantire i diritti dei bambini e dei ragazzi. L'articolo 12 della Convenzione dice che proprio va data massima libertà di espressione ai pensieri e alle considerazioni dei ragazzi. In secondo luogo ci permette oggi di parlare insieme ai nostri studenti di un argomento importante, di quello che è il paesaggio di questa città, di come esso venga percepito dagli studenti, di come in loro si sia formato nella loro ancora breve esistenza l'idea del bello e del brutto. Ecco, con l'accompagnamento, con la guida di un docente universitario che con grande umiltà si mette a disposizione di ragazzi della scuola secondaria di primo grado e allora con questa guida speciale noi speriamo di iniziare un percorso di avvicinamento dei bambini a quello che è un loro diritto, il diritto alla bellezza. L'incontro di oggi è visto la presenza di Gianfranco Tuzzolino, docente di composizione architettonica ed urbana della Facoltà di Architettura di Palermo. Incontrare gli studenti di questa fascia d'età e parlare soprattutto di quello che abbiamo concordato con la dirigente Scicolone, cioè la bellezza, secondo me è una grande opportunità. Abbiamo voluto fortemente questo momento perché credo che sia utile riscoprire, intanto dialogare con gli studenti, con i ragazzi e poi cercare di capire qual è la loro percezione della bellezza, come si orientano nel paesaggio contemporaneo e che percezione hanno di questa città, Gela, che ha un insediamento straordinario, che ha delle qualità straordinarie che sono però nel tempo state soffocate da una modernità un po' troppo invadente. Quindi è utile capire al di là delle superfetazioni, delle stratificazioni che Gela ha avuto negli ultimi anni, quali sono ancora i germi di bellezza che essa possiede. E fare questo ragionamento con i ragazzi mi sembra molto interessante perché è da loro che si può tentare, è attraverso la loro intelligenza, attraverso il loro futuro, che si può tentare di ridare, restituire la giusta dimensione al paesaggio contemporaneo, di dare la giusta cura ai nostri luoghi, che meritano davvero tanto.